Rete 1 Adesso viviamo invece un momento collegato al dialetto giornate sui dialetti della Valle di Blegno c'è questa rassegna che propone al Museo Etnografico della Valle di Blegno diversi appuntamenti il prossimo è sabato 5 ottobre presso il Palazzo dei Lanfotti di Lottinia ci sarà una conferenza di Mario Vicaria alle 14.30 un'unica valle quanti dialetti tra memoria e consapevolezza e poi alle 16.15 un concerto di un nostro amico al quale diamo il benvenuto Davide Buzzi, ciao Grazie, ciao, grazie di avermi chiamato e un caro saluto a tutti i radioascoltatori Allora, senti, prima abbiamo parlato dei nonni i nonni ci fanno star bene, il dialetto ci fa star bene anche quello, insomma ci aiuta a conservare un aspetto importante della nostra realtà, della nostra tradizione e poi c'è la musica e tu sei bravo a scrivere dei testi e quello che ascolteremo fra poco io sinceramente non me la sento di così annunciarlo perché non vorrei sbagliare qualcosa perché chi è un po' complicata è la faccenda, tu vai sempre a cercare delle cose complicate ma che hanno qualcosa di genuino e qualcosa che ci appartiene Allora, carissimo, concerto alle 16.15 sabato con la tua band, gli smartphone band che cosa succede quindi sabato? Raccontaci da dove parte questo singolare titolo prima di tutto Sì, beh, intanto saremo appunto per questo secondo appuntamento dedicato ai dialetti presso la casa dei Landfokti di Lottinia un posto bellissimo dove io sono cresciuto proprio perché la mia nonna mi ci portava quando andavo da lei a Lottinia perché lei era di Lottinia quindi per me è un ritorno a casa Un ritorno a casa per così tenere compagnia al pubblico con la tua verva, con la tua simpatia, con le tue storie perché questa è un'altra storia qui, dai, ce la devi raccontare Sì, no, allora il concerto è un concerto in dialetto in verità è la prima volta che faccio un concerto completamente in dialetto è stata questa l'esigenza appunto degli organizzatori di questo evento e non è stata una sfida, è stata una bellissima scommessa da portare in porto più che volentieri perché testi in dialetto ne ho scritti tanti fra cui appunto questo brano che si intitola Razan fra gli altri che è la storia di un asino che sta scappando dal suo padrone quella è la storia che io in realtà ho vissuto da ragazzino però non era un asino che scappava era un toro che se ne stava Oh santo cielo! Era bello scappando per il villaggio di Aquila io mi ricordo perché eravamo a scuola abbiamo visto questo toro che correva per la campagna e ha tenuto in ballo i contadini per una giornata intera mi era rimasta sempre queste immagini di questo toro che era stato portato tra l'altro dalla sua stalla fino a un'altra stalla perché doveva fare il suo dovere di toro si vede che forse la mucca non era di suo gradimento e ha pensato bene di darsi alla fuga e io avendo assistito in diretta questa storia ho sempre pensato di scriverci una canzone però raccontare di un toro non era molto interessante poi dei tori si è già parlato molto ma mi è venuto in mente avendo lavorato spesso con asini e cavalli mi è venuto in mente di provare a raccontare la storia di un asino che scappa e quindi mi sono immaginato quest'asino che mentre lo stanno bastando decide che lui ne ha abbastanza e scappa dal suo padrone il quale lo rincore e si sa che i padroni a quel tempo gli asini li bastonavano abbastanza di frequente perché la storia è ambientata chiaramente nel passato e quindi mi sono immaginato quest'asino davanti col basto tutto storto sulla schiena che scappa e dietro il padrone col bastone ma l'asino, ed è qui arriviamo al punto l'asino non è stupido da qui il titolo del concerto rasan le asan danon malemea un cuion cioè rasino è asino di nome ma in dialetto ok abbiamo capito non è stupido anzi l'asino è molto intelligente assolutamente sono animali incredibilmente intelligenti ed è per quello che sfuggono dai padroni quelli malintenzionati coi bastoni cosa che non succede più al giorno d'oggi si spera senti Davide allora da lì da questa bellissima storia di tori e non tori e asini è nata questa avventura questo concerto dici che cosa ci proporrai allora sabato alle 16.15 che tipo di musica accoglierà il pubblico che tipo di storia anche si saranno tutti i brani miei in dialetto dialetto di aquila che io ho scritto durante gli anni e che ho inserito alcuni in alcuni dischi miei altri non sono mai stati incisi cercherò anche di raccontare magari non su tutti ma cercherò di raccontare la storia di come sono nate queste canzoni o perché le ho scritte quindi è una specie anche un po' di teatro concerto nel senso che si cercherà anche di colloquiare col pubblico e dire ecco questa canzone nasce da questa storia qui un po' come la storia dell'asino e anche però magari cercare di fare un punto su quello che può essere il fatto del trasmettere il messaggio in dialetto piuttosto che in italiano perché anche questo è l'aspetto importante io sono cresciuto in dialetto però l'ho cantato poco seppure in dialetto ho avuto i miei più grandi successi quindi c'è questo un po' questo dilemma dalla persona di valle che vuole andare fuori e quindi canta in italiano si esprime in italiano però le sue radici sono quelle dialettali quindi quelle rimangono e quelle sono quelle che fanno la storia di quello che noi siamo di quello che io sono molto bene Davide Buzzi grazie per averci ricordato anche questi aspetti che sono comunque fondamentali del nostro passato della nostra cultura un'occasione attraverso tutti questi incontri di mantenere vivo il dialetto delle valli e quindi l'occasione è di ascoltare questi brani in dialetto con la tua band la Smartphone Band lo ricordiamo ancora sabato dopo la conferenza di Mario Vicari ci sarà il tuo concerto con un ospite speciale Maddalena questo è importante ok Maddalena che è una giovane interprete suppongo sì molto brava benissimo molto bene allora la scopriremo insieme l'appuntamento quindi di Rasan le asand non male mia un coiun questo è il titolo della concerto che mi aspetta cosa mi fai fare Davide guarda meno male che è il nome dell'amicizia che ci lega molto bene buon divertimento comunque a tutti coloro che saranno presenti e sai che cosa ti dico Davide che la prossima la presenti tu perché sai già qual è perché io te l'ho detto tu mi hai mi hai detto ok dai mettiamo quella lì allora visto che siamo sul tema la canzone che dà il titolo a questo concerto per tutti voi è buon ascolto Rasan senti un po' ma Rasan ma di chi è quella voce che c'è all'inizio del pezzo che sentiremo fra poco la voce all'inizio del pezzo è dell'isolina che io chiamo zia ma in realtà è una mia cugina e che ha 96 anni wow le mandiamo un bacio a una nonna quindi sì è una prozia perché non è mai stata nonna ma è un po' la nonna di tutti molto bene allora le mandiamo un grande bacio a questa signora e adesso sentiamo la sua voce ciao zia o isolina ciao 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 Davide ciao grazie Jenny ciao ciao allora adesso vediamo un po' che le ne 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 è che c'è una storia è una storia drasana ma ti danni chi viziene mi sa denna pos me mi creda da una carapium baffona zan kurumbas tutt gruș utro e ta ziua ma in retos cantivam gacenza fermas ala kukut ala kuban usca padrubas toni o gamè aveia da fost ciapà e oh me donin giri pesta del vet arriva un padrò mi incorsa tre un vas alfermel un prea d'acuna qua sentim un chame gesù giuseppe maria cuelas a unì la sol mene aveia ma nasa leas andan om male me un puion e fu un tarastricio di matto si fir adre un canto ma l'ole no l'ole filo l'an 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 che fanno fanno in piazza, il vetamento è nato con il Padre un cucco, l'Andrea e un vostro giocatore e il Prevo ancora qua sentiamo invoca Gesù, Giuseppe e Maria e tutti siamo guardati su ma ora non c'è più ma razzano scapa, il paio tutt'gro su spate, rapaura beccia la popio, lavorio sfermas ma trai a quel padrone al moda pašton che il vostro giocatore il vostro giocatore è sicuro che la sera mia non è giù e i gent fin fa campagna il tuo già fila intanto il Padre un'altra il vostro giocatore il Prevo ancora qua sentiamo un plore a Gesù, Giuseppe e Maria signor par dei giù e tutti i genti all'iena alla il lascia scappan il Padre un stracanto Andre, un crida a l'ocale e il Prevo ancora qua sentiamo pui con giurano sta qui sentarita da cassa le una mission per ti ma Razan non c'è più ma Razan non c'è più Razan non c'è più Razan non c'è più Razan con la voce oh chi è? ho perso ho perso un pezzettino chi era la nonna sempre la zia? la salutiamo di nuovo comunque avevo dimenticato che c'era il codino grazie di nuovo a Davide Buzzi l'appuntamento con il concerto come detto è sabato alle 16 e 15 nel palazzo dei Lanfocchi di Lottinia per queste giornate sui dialetti della valle di Blegno rassegna del museo etnografico della valle di Blegno e a questo punto a questo punto una promessa dopo aver reso omaggio al dialetto di scena appunto sabato andiamo con un po' di musica folk internazionale si potremmo